Salve a tutti sono Sara, mi sono appena lavorata in scienze della comunicazione, in comunicazione digitale d'impresa qui presso Uninet1. Io consiglio a tutti questo percorso di studi perché mi ha permesso di conciliare la mia vita privata e lavorativa con lo studio, quindi lo rifarei altre mille volte, è stato bellissimo, i professori sono tutti gentili e estremamente disponibili, in particolar modo ringrazio il mio relatore, il professor Viganò e nulla, vi auguro a tutti un grandissimo futuro e un bocca al lupo.